Indaga la direzione distrettuale antimafia di Bari sull'omicidio di Bartolomeo La Pomarda, il 28enne allevatore ucciso a fucilate nella giornata di lunedì, quando il suo cadavere nella tarda serata è stato ritrovato dai carabinieri allertati dai parenti della vittima nel suo podere nelle campagne tra Mattinata e Monte Sant'Angelo. Saranno quindi magistrati dell'antimafia a coordinare le indagini degli investigatori dell'arma dei carabinieri che stanno accertando dinamica e movente del delitto. Al momento ancora sconosciuto il numero di fucilate che ha raggiunto e ucciso la pomarda e se abbiano sparato più armi. Sarà l'autopsia a fugare ogni dubbio e a fornire anche elementi utili agli inquirenti per inquadrare con precisione la matrice del delitto. Si ipotizza, ma su questo punto gli investigatori mantengono il più stretto riservo, che lo stesso sia stato compiuto nell'ambito della criminalità di stampo mafioso, considerato che indaga la distretto all'antimafia, ma ogni altra pista viene comunque vagliata con attenzione. La vittima era stata arrestata con altre due persone dai carabinieri il 12 aprile del 2016 perché accusato di aver aggredito con un accetto a un trentenne di mattinata per questioni legate alla gestione di terreni agricoli.